Musica Musica Bellissima Allora andiamo a fare un biciolino leggero Soprattutto se la svolta non dovesse essere così bella Musica 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 Voglio fare una cosa finita, fatta in maniera diversa, è stata fatta che io non ho fatto pressione e questa qua invece è stata fatta un po' a forma di rosetta, ma sicuramente all'interno è più grande. Siamo come cambiamo le tagliatelle di nona Pina o di nona Rina? Le tagliatelle di nona Rina! Tutti a tavola! URRA!